Il famoso principe Filippo, 98 anni di età, è stato dimesso da come si legge sul web dall'ospedale. Il King Edward VII, dopo ben 4 giorni di ricovero, di ciò ci informa la BBC. Il discorso Buckingham Palace aveva spiegato che il ricovero dell'uomo, ducati ed un burgo, purtroppo si era verificato come misura precauzionale, suggerita dal medico curante del principe ed è stato già programmato in precedenza per un controllo ed un trattamento legato ad una condizione preesistente e quindi l'uomo diciamo che sta meglio in quanto ripeto che è stato dimesso a tutti gli effetti di legge. Vi ringrazio io per l'ascolto, 98 anni non sono pochi ovviamente ed è questa una obiettà scontata ma che ho voluto trasmettere attraverso l'ausilio della mia voce. Un salutone caro a voi, ripeto, da Reandro Arias, il vostro narratore italiano di YouTube Italia. Un salutone caro, al prossimo video e una buona giornata.